e vedere ragazze semi nude o nude bella ragazze semi nude o nude che danzano nude o danzando si spogliano o semi nude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente o nude giocano a pallavoro su una spiaggia l'autorista o nude votano per un fotografo è bello, non ho pene di le palle non ho pene di le palle con i vostri discorsi volgari, maschilisti o sossiegosi, femministi che in questo caso, e fuori oltre, vanno a parlare allo stesso discorreggio non ho pene di le palle dire che queste cose vanno schifo perché anche i latibuti Berlusconi le fa è come dire che Dante fa schifo perché anche Bonti le polegie le fa bella ragazze semi nude o nude che danzano nude o danzando si spogliano è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare affascinavano duemila anni fa finché c'è vita affascine e la ragazza che lo fa io la guardo con vasta gravitudine aggiunge al mondo un tocco di splendore un po' di luce 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 che noi tutti attende con il suo sottini o sottosso vedere ragazze semi nude o nude nell'amonia del corpo in movimento è bello non compete di le palle né competele a loro guardatele piuttosto e se siete fortunati baciatele e anche fidanzatevi sci perché dopo fidanzatevi non diciate loro di smettere di danzare semi nude o nude se avete voi l'idea piuttosto attenetevi applausi 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 applausi